Sabato 30 luglio, buongiorno da Sicilia 24 e buon fine settimana, ben ritrovati anche oggi puntuali come sempre con la nostra consueta rassegna stampo di Erna, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola stamane, vediamo cosa ci propongono stamattina, quali sono i titoli più importanti. Cominciamo dal quotidiano la Sicilia, questo è il titolo principale, il titolo d'apertura, il buco nero, andiamo nel dettaglio. A 30 anni dall'archiviazione riparte l'inchiesta su dossier mafia e appalti su cui indagavano Falcone e Borsellino, nelle carte in mano ai PM di Caltanissetta i nomi dei politici. E a proposito di politica si parla del Movimento 5 Stelle, fuori 50 big, niente deroga per il terzo incarico. Passa quindi la linea di Grillo, non saranno ricandidati Fico, Bonafede, Taverna, Crimi e tanti altri. Rebus, liste per Conte. Ancora politica, si parla del campo progressista in vista delle elezioni regionali, i dubbi di Chinnici, quadro nuovo PD atterrito ma il Movimento 5 Stelle non rompe. Ancora politica, Carfagna e Gelmini passano con Calenda, duro attacco a Forza Italia, mentre in vista sempre delle regionali in Sicilia la Lega chiede spazio, la russa musumeci, la resistenza continua. Si parla anche di Cronaca, Catania, zona industriale, esplode una bombola e muore un operaio, mentre per quanto riguarda l'emergenza rifiuti parla Bertolaso, il termo valorizzatore unica, soluzione valida. Andiamo in taglio alto, noto omaggia a Pasolini, oggi e domani Giacinto Festival per affrontare i temi LGBT. E ancora il giro delle città, partendo da Catania, aumento dell'Atari, proroga al 31 agosto, sempre a Catania, acciaierie di Sicilia in agosto ci si ferma, ad Acireale invece ho riacceso la città, il sindaco è promosso, Taormina, piano porto, valvola contro il traffico. Facciamo il quotidiano alla Sicilia, adesso vediamo cosa ci propone stamane il giornale di Sicilia, anche qui si parla di politica e soprattutto dei 5 stelle. Questo è il titolo, 5 stelle fuori i secondi. Conte si arrende, nessuna deroga al limite del doppio mandato, la regola è estesa anche alle regionali, da Bonafede a Crimi, da Trizzino a Cancelleri, tanti i siciliani tagliati. E ancora si parla di aiuti anticrisi, aumentati finanziamenti per gli artigiani, tetto a 200 mila euro. Ingerenze di Mosca, allarme dei servizi, questa è una lettera della Copa Sirra. E poi in fuga, vedete, da Forza Italia, quindi parliamo ancora di politica, Calenda accoglie Gelmini e Carfagna. Costi energetici troppo alti, si ferma a Ciaierie di Sicilia per tutto agosto, 250 dipendenti in solidarietà. E poi ampio spazio al calcio, al Palermo, in questo caso Palermo che ha presentato anche le nuove maglie, le vedete in questa foto. Andiamo nel dettaglio, Corini ma non solo, il City valuta una lista, il Palermo è ancora in cerca di un allenatore, l'ex Rosanero Corini sembra in vantaggio e in vantaggio su tutti, poi però bisognerà fare anche un mercato del certo tipo perché la Serie B chiaramente necessita di ritocchi importanti. Proseguiamo, restiamo sempre sul giornale di Sicilia. Tragedia a Catania, esplode una bombola in fabbrica, morto un operaio. E poi la questione rotoli, cimitero della vergogna, al via i lavori per 400 loculi prefabbricati. Infine a Università cade l'accusa di truffa, assoluzione per Franzitta. Andiamo in taglio alto. A Palazzo Reale, gli antieroi di Mendoza, la mostra a partire da domani, mentre questa è una notizia di cronaca che non riguarda la Sicilia. Il fatto è avvenuto a Cittanova, nigeriano ucciso con la sua stampella. È stato fermato un italiano, ovvero colui che lo ha aggredito. E poi la focus del giornale di Sicilia, dalla guerra in Ucraina alla siccità, tante minacce per il grano dell'isola, Coldiretti parla di raccolti ridotti di un terzo. Lasciamo il giornale di Sicilia, adesso andiamo sull'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica. Si sofferma su un tema certamente importante e significativo, l'agosto nero dei siciliani a casa una famiglia su tre. La crisi azzera le vacanze anche di chi ha un lavoro fisso, mentre l'isola registra 3 milioni di presenze. Dunque molti siciliani costretti in questo caso a rinunciare alle vacanze. E poi l'emergenza migranti, Lampedusa ultima spiaggia, altri 1.500 migranti sono stati salvati, davvero sbarchi senza controllo negli ultimi giorni. Mese Palermo, prima giunta in arrivo 2 milioni per i rotoli, i rotoli ovviamente sarebbe il cimitero, quindi questa è certamente una notizia molto importante perché si tratta di una delle grandi emergenze della città di Palermo che il nuovo sindaco e la nuova giunta devono e vogliono affrontare. La politica verso le regionali, il veto della Lega su prestigiacomo, il partito vuole un suo candidato per le regionali e anche qui ci sarà molto molto da discutere. Dopo i depistaggi senza colpevoli, altra inchiesta per mafia e appalti, la procura di Caltanissetta sulla strage di Borsellino. A proposito di mafia, vedete si parla anche del caso Brusca, quando morale e ragione confliggono, questo il titolo. Lasciamo l'edizione palermitana di Repubblica, siamo invece sull'edizione nazionale, sempre della Quotidiano La Repubblica, i problemi, chiamiamoli così, del Movimento 5 Stelle in primo piano, Grillo licenzia le stelle. Nessuna deroga al secondo mandato, fuorifico, crimi, taverna e 50 parlamentari. Intervista a Michele Santoro che dice vorrei fondare un partito e alle armi con Conte. Intanto Gelmini e Carfagna scendono in campo con Calenda. E poi vedete il fatto di cronaca di cui parlava anche il giornale di Sicilia. Migrante ucciso in strada a bastonate, come detto è successo a Civitanova Marche, fermato l'assassino, un italiano di 32 anni, il pretesto dice ha importunato la mia donna, questo dunque sarebbe il pretesto per uccidere un uomo, davvero incredibile, davvero senza parole. Siamo sul Corriere della Sera, i 5 Stelle azzerano gli eletti, saltano Fico, Buonafede, Fraccaro, Lira degli esclusi, pagheremo alle urne. Grillo piega Conte, nessuna deroga al doppio mandato. Azione, gli ex Forza Italia resistono all'alleanza col PD. E poi si parla anche della guerra in Ucraina, accuse Mosca Kiev sulla strage nel carcere, bombardata la struttura che ospitava i resistenti di Azovsal. Mentre Zelensky va al porto di Odessa, avvia la prima nave con il grano. Lasciamo anche il Corriere della Sera, siamo sul quotidiano La Stampa, questo il titolo di apertura, calenda svuota Forza Italia, Gelmini avanti con Draghi. Movimento 5 Stelle, diktat di Grillo sul doppio mandato, Conte dice voglio Santoro candidato. Il ministro della Carfagna nella segreteria di azione, qui nessuno trama con Mosca. E poi vedete, si parla ancora di questo fatto di cronaca avvenuto a Civitanova, l'orrore e l'indifferenza, ucciso un uomo che chiedeva le lemosina, i passanti filmano ma non intervengono e questa sta diventando ormai una cattiva abitudine, quella appunto di filmare certe situazioni con gli smartphone ma purtroppo senza però intervenire. Andiamo sulla prima pagina della giornale di Sicilia, questo il titolo di apertura, Insalata russa con bufale, campagna contro il centrodestra Repubblica. Putin manda i migranti in Italia dalla Libia ma il Viminale smentisce fango su Berlusconi, con loqui con l'abbasciatore, il Cavaliere si difende, sono illazioni infondate. E dopo anni di insulti, Calenda, vedete, porta Galfagna e Gelmini a sinistra. E questa è una notizia che fa certamente male e anche la foto, vedete, è una foto molto toccante, una bara bianca in mezzo al dolore, l'addio a Diana vissuta e morta sola e la bambina che è stata abbandonata a casa dalla madre, si sono svolti i funerali. Ancora politica, Movimento 5 Stelle nel caos, Grillo vince sui due mandati, schiaffo a Conte e Travaglio. Lasciamo il giornale, andiamo sul quotidiano La Nazione, anche qui il tema principale è la politica e il focus è sul Movimento 5 Stelle. Comanda Grillo a casa tutti i big, nessuna deroga sul terzo mandato, naufraga la linea di Conte, non saranno ricandidati, nemmeno Fico, Bonafeda, Taverna e Crimi. E poi vedete il fatto di cronaca certamente più importante, diciamo così, della giornata, ucciso nell'indifferenza, ambulante massacrato di botte in strada tra i passanti, arrestato un operaio, la furia alla richiesta di Elemosina. Lasciamo La Nazione, siamo sul quotidiano libero, anche qui si parla di politica, anche se in questo caso l'argomento è diverso, non è, o meglio non sono i 5 Stelle, gli 007, letta uomo di Putin. Documento segreto in possesso di Libero, inchioda il segretario. Le accusi a Salvini sono un depistaggio per coprire il politico PD, ma leggete bene il post scriptum, scrivono i colleghi di Libero, dunque certamente sarà interessante questo documento esclusivo contenuto all'interno di Libero. Ancora politica, Grillo fa fuori i suoi veterani, trionfa la stupidità e poi vedete parola di Mara, ovviamente Mara è la Carfagna, che dice calenda viziato, eppure cafone. E poi ancora politica, in questo caso ora speranza dà l'aumento ai funzionari e Libero parla di regalini elettorali. Insomma, come potete vedere la campagna elettorale è già entrata nel vivo anche sui media. Siamo sulla prima pagina del tempo, Grazie Grillo, Toninelli, Crimi, Taverna, Bonafede, Sibilia, tra i 50 esclusi dalle liste. Conte cede al diktat del comico sul limite del secondo mandato, i suoi torneranno a casa. Si salva solo Patuanelli, appendino candidabile e resta da chiarire il nodo Raggi. Raggi, ovviamente l'ex sindaca di Roma. Siamo sul fatto quotidiano, si parla anche qui di 5 Stelle con un'intervista al suo leader, ovvero a Giuseppe Conte. Il polo giusto dei 5 Stelle è aperto alla società civile, dice appunto il leader del 5 Stelle, vedete, nel giorno del no ai terzi mandati. queste dunque le parole di Giuseppe Conte. Ed ora andiamo a vedere come tutte le mattine le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ne dico la stamane, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. In primo piano c'è l'Inter e la sua coppia d'oro. Gli intoccabili, scrive la Rosea. La super coppia d'attacco farà poco turnover. Le due stagioni insieme hanno giocato sempre. Ovviamente la super coppia è formata da Lukaku e Lautaro Martinez. E poi la Milan a fare fatto. Arriva a Decateler. Subito visite firme. Da martedì sarà a disposizione di Mister Pioli. La Roma, Murigno e Di Bala. Che emozione a Gerusalemme. I giallorossi si godono il talento argentino. Lasciamo la Gazzetta. Andiamo sul Corriere dello Sport. Si parla di calciomercato Napoli. Raspadori. Sì al Napoli. Sul tavolo cinque anni di contratto. De Laurentiis sta trattando con il Sassuolo. Il club è pronto a garantire al talento un ingaggio da due milioni e mezzo a stagione. In taglio alto si parla invece di Milan. Decateler ora è fatta. Il Milan ha finalmente centrato il colpo che serviva a Pioli. Raggiunto l'accordo definitivo con il Bruges. 32 milioni più 4 di bonus. Tra oggi e domani l'arrivo in città, le visite mediche e la firma su un contratto di cinque anni. Dunque si conclude questa vera e propria telenovela di mercato. E poi la Roma. Notte da Champions. Scrive il Corriere dello Sport. In Israele alle 20 e 15 la gara sarà trasmessa su Dazon. La sfida al Tottenham. Ieri la visita della squadra con Murigno al seguito al muro del pianto. Lasciamo il Corriere. Andiamo su Tutto Sport. Qui si parla di Juve. Il titolo è Rieccoli. In riferimento a Pjanic e Vlaovic. Regia Juve. Rispunta il bosniaco. Il Barcellona deve sfoltire testa a testa con Paredes. Mentre stanotte alle 4 del mattino, ore italiane, si rivede Dusan Vlaovic nel Test Champions contro il Real. Dunque la Juve potrebbe riprendere come abbiamo visto l'ex Pjanic. Pjanic e poi ancora Milan. Vedete finalmente Decateler e Tuo. Dunque come detto i rossoneri sono riusciti a convincere il Bruges a lasciar partire il talento belga. E con il quotidiano Tutto Sport ci fermiamo. Chiudiamo questa rassegna stampo di Erna. Anche oggi tanti gli argomenti proposti dai quotidiani li abbiamo visti. Tanta politica ovviamente cronaca, poi sport, calciomercato. Quindi anche oggi abbiamo visto i titoli principali. Ora ovviamente continua l'informazione sul Sicilia 24 con le nostre edizioni di Spazio Notizia. Dunque rimanete con noi. A dopo.